Domenica, al nord pressione in aumento, venti di bora e grecale. Giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo sereno o poco nuvoloso. Fresco al mattino. Lunedì, regime di alta pressione. La giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà molto nuvoloso o a tratti coperto, non sono attese precipitazioni degne di nota. Al centro, irruzione di venti di grecale. Giornata con rovesci e temporali con grandine sulle regioni adriatiche, nubi occasionali altrove. Temperature in diminuzione, anche sensibile. Lunedì, dominio dell'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il sole splenderà in un cielo che si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Venti da nord. Al sud, venti tesi da nord. Giornata che trascorrerà con un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni. Non si potranno escludere veloci piogge sulle coste tirreniche. Lunedì, alta pressione sulle nostre regioni. Giornata contraddistinta dal bel tempo prevalente, il sole splenderà in un cielo che si presenterà in gran parte sereno. Venti tesi da nord. Venti tesi da nord. Giornata.